Poi alla fine glielo ho anche detto, come te lo avevo detto all'inizio, che era ora di finirla, che dovevamo smettere, che non era necessario. Però uno queste cose le deve insistere, deve insistere a dirle dall'inizio, perché se le dici durante e poi se le dici soltanto alla fine, è chiaro che poi finisce comunque, e intanto però il danno è fatto, non smettere all'inizio quando hanno appena cominciato, se invece smettono a metà strada o smettono alla fine, non è la stessa cosa e comunque, che senso ha dire che smettono a metà strada quando la strada ancora è tutta in corso? Non è chiaro questa cosa del fatto che dicono che non è chiaro, è un'altra delle cose che andremmero messe, finirebbe smetterla di dire che non è perché non è vero, che non è chiaro. Tutti capiscono e sanno benissimo che è chiarissima, così possono continuare, invece bisognerebbe smettere però, non smettono perché vogliono arrivare alla fine, senza capire che poi quando sono arrivati alla fine non possono più cambiare nulla ed è tutto finito. Per un periodo della mia vita sono stato barista, c'erano dei déjà vu, era molto veloce, non mi potevo soffermare, io guardavo, quando il ritmo rallentava avevo i déjà vu e sapevo che li giudicavo fondati perché li volevo ignorare. Per un periodo della mia vita sono stato assente, non mi trovavano da nessuna parte, in realtà stavo bene, poi sono tornato. Per un periodo della mia vita sono stato cinese, avevo precisi tratti somatici come gli occidentali e tutti. I miei erano cinesi, parlavo e scrivevo anche in cinese, solo amici italiani però avevo. Non capivano gli scherzi, nemmeno quando erano muti, gli italiani sono un popolo riflessivo. Per un periodo della mia vita sono stato accanto alla finestra a guardare fuori, che tuttavia non c'era niente. Non c'è niente nemmeno nel caminetto quando è acceso, ma è lo stesso, si guarda, uno guarda dentro. Cambia che è un dentro invece di un fuori. Le cose cambiano e per un periodo della mia vita non si sa come, poi si sa. Dopo lo sai, ma non sai quando è dopo. I brani che vi ho letto sono tratti da un libro, recentemente uscito da Tic Edizioni, dal titolo La gente non sa cosa si perde. Il libro è di Marco Giovenale. In questo libro di prose, che sorprendono la poesia, è di poesia che si fa prosa, Marco Giovenale continua il suo cammino, quasi ventennale, su quella strada che legittimamente chiamiamo prosa in prosa. Non narrazione e non poesia, qualcosa di più e di meno di entrambe. Il libretto è una sequenza di quadri un po' folli, un discorso che dalla prima pagina si vuole chiaro e comprensibile a tutti e allo stesso tempo sfalsato, fuori sincrono, sorprendente. Marco Giovenale è nato nel 1969 a Roma, si è laureato in lettere con una tesi sulla poesia di Roberto Roversi. È una delle voci più interessanti della generazione dei poeti nati negli anni 60. Giovenale ha fondato GAM.org nel 2006 con Gerardo Bortolotti, Alessandro Broggi e Michele Zaffarano. GAM non è una rivista né un editore. Dà ospitalità alla ricerca e si occupa di avanguardia e letteratura sperimentale. Glitch art, installazioni, nuove scritture, in particolare dedicandosi alla prosa in prosa. e al lavoro di autori statunitensi e francesi come Charles Bernstein, Ron Silliman, Jean-Marie Gleese e Nathalie Cantone. Buon intervallo a tutti da Antonio Sixti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.